L'intervista si è svolta nel luglio del 2015, era una giornata particolarmente affosa, la prima cosa che il Papa mi ha detto è stata quella di togliermi la giacca per mettermi a mio agio. Io ero andato lì con tre registratori per essere tranquillo sul fatto che non avrei perso neanche una parola e per questo motivo non avevo dei fogli dove prendere appunti. E il Papa ha visto che non avevo la carta per appunti e prima che cominciassimo stava alzando per dirmi ma non hai la carta per appunti, vado a prenderti dei fogli preoccupato per il fatto che io non avessi la carta. In realtà gli ho detto no, non mi serve perché sto registrando tutto. È un piccolo aneddoto che però dice anche l'attenzione che ha quest'uomo nei confronti della persona che ha di fronte. Dovevamo parlare della misericordia ma era attento anche a questi piccoli particolari come la mancanza di carta per appunti. Il nome di Dio è misericordia, un'intervista con Papa Francesco, è un'intervista dove al centro c'è sempre una persona concreta. Come è arrivato lei a questa intervista? A me l'idea è venuta in mente mentre il Papa Francesco esattamente un anno fa, poco più di un anno fa, nel marzo 2015, stava annunciando alla fine della liturgia penitenziale in San Pietro l'anno straordinario della misericordia. Siccome questo era un tema che per lui ha avuto sempre una grandissima importanza, ho pensato che sarebbe stato bello poter fare una conversazione con lui tutta incentrata su questo. e dunque ho mandato una lettera presentando questo tipo di progetto. Lui non ha detto né sì né no, però poi si è concretizzato. Nel luglio del 2015 abbiamo fatto il colloquio, tutto focalizzato soltanto sul tema della misericordia, che questo mi sembrava di poter dire già l'anno scorso, prima dell'annuncio del Giubileo, è veramente centrale per lui e per il suo Magistero. Un Magistero dove in qualche modo il Papa viene accusato spesso di essere un po' troppo misericordioso. Sicuramente chi dice che c'è troppa misericordia, se non è un credente lo capisco, se è un credente non so come si possa dire che c'è troppa misericordia se uno pensa a se stesso, diciamo, non sarà mai troppa la misericordia. E chi dice che c'è troppa misericordia dovrebbe ricordare che cosa leggiamo nei Vangeli. Gesù attirava come il miele attira le mosche i peccatori, i borderline, quelli che non erano a posto, quelli che erano irregolari e aveva parole di misericordia e di perdono. E dunque mi sembra che in chi oggi dice al Papa che troppa misericordia e troppa larghezza, dimentica questa dinamica del Vangelo e dimentica soprattutto che oggi più che mai il cuore delle persone si incontra soltanto nell'abbraccio e con la misericordia. Una misericordia che però poi fa pugni con la giustizia. Lei ha affrontato anche questo tema con Papa Francesco. Non fa pugni con la giustizia ma è la vera giustizia perché secondo la giustizia umana ha una affesa, ci deve essere una riparazione e ha una botta, una risposta sostanzialmente. Se però questa rimane, cioè la giustizia umana portata anche al massimo livello, può diventare anche somma ingiustizia o può comunque non portare mai alla riconciliazione e alla pace. Mentre invece il perdono e la misericordia sono necessari non soltanto nella vita personale, nel nostro rapporto con Dio, ma anche nella vita familiare, nelle società e nei rapporti tra gli stati. Come peraltro aveva già intuito molto bene Giovanni Paolo II che pochi mesi dopo l'attacco dell'11 settembre contro gli Stati Uniti scriveva nel messaggio per la giornata mondiale della pace, non c'è pace senza giustizia ma non c'è giustizia senza perdono. Questa intervista piena anche di riferimenti ai sacerdoti, tant'è vero che a un certo punto mi domandavo se non fosse un'intervista fatta per loro più che per noi. Poi di fatto però la cosa curiosa è che Francesco attinge al suo patrimonio di esperienze spesso con i laici. Ma io credo che sia un'intervista in cui si parla anche dei sacerdoti ai sacerdoti perché comunque quella è l'esperienza del Papa, il Papa è un prete che ha fatto il prete e secondo me le due cose stanno insieme perché lui parla della sua esperienza di prete e in questo senso parla anche ai preti su come confessare, su come essere vicini alla gente, ma allo stesso tempo in ogni pagina del libro lui parla di esperienze e di incontri che ha avuto con le persone comuni e infatti non è un libro credo teologico nel senso di approfondimento astratto della realtà, non è un libro intellettuale e il Papa quando parla ha sempre presente volti e storie di persone, direi che è un libro esperienziale.